Una vescica che si dice iperattiva, che cos'è? È una vescica fastidiosa, come lì la stai descrivendo. È una vescica che ci costringe ad andare in bagno piuttosto frequentemente. La pollachiuria è un sintomo classico. Grazie per aver condiviso l'accenturia. Pollachiuria, così come la nicturia, la necessità di doversi svegliare di notte. Si dice che la notte è fatta per dormire e così dovrebbe essere. In realtà alcune persone la notte sono costrette ad alzarsi, andare in bagno due o tre volte. Ma non era l'ipertrofia prostatica? La vescica iperattiva può essere conseguenza dell'ipertrofia prostatica, ma ci sono dei quadri in cui si verifica una situazione del genere senza che a monte ci sia una prostata che ostruisce. E poi il sintomo più classico, direi, di questa vescica iperattiva è che è l'urgenza minzionale. Che vuol dire l'urgenza minzionale? Che appena abbiamo lo stimolo non abbiamo il tempo, come tutti noi abbiamo, di aspettare di arrivare alla toaletta e di trovare una toaletta. No, corrono. Immediatamente bisogna correre e cercare quindi di... Maschio o femmine che sia? Maschio o femmine che sia, diciamo che non c'è grossa differenza tra i due sessi in termini di incidenza. Diciamo che è una patologia che si sviluppa generalmente nella seconda parte della vita dopo i 50 anni. Ma anche i giovani possono essere interessati da questo problema. Al presidente della società, come si chiama la sua... Italiana di Urologia. Ecco, chiedo. Questa condizione colpisce in uguale misura maschi e femmine, prima di tutto, e poi le cause di questa patologia? Sì, dicevamo prima che è una patologia che colpisce sia gli uomini che le donne. Generalmente dopo i 50 anni, ma ci sono anche dei giovani ragazzi che cominciano a soffrirne. In questi casi bisogna essere molto attenti alla possibilità che ci sia una patologia neurologica. Purtroppo la sclerosi multipla è una malattia che dà questo problema. Quindi, attenzione, nei giovani questa vescica iperattiva può essere un segno di una problematica di tipo neurologico. Nel mio elenco ho scritto i fattori di rischio. Sono ben otto, ipertrofia seddetto, prostatica, naturalmente parlo di quella, infezioni del tratto urinario e poi carenza di estrogeni dopo la menopausa. Questo riguarda naturalmente solo le donne. Patologie neurologiche, poi i diabete. Certo, certo. Ma soprattutto nelle donne, ecco, la possibilità che una infezione delle vie urinarie, le famose e comunissime cistiti, alla fine, alla lunga, possano irritare in maniera anche cronica il detrusore. Impariamo anche a conoscere questo muscolo, che è un muscolo che riveste completamente dall'esterno alla vescica e grazie alla contrazione di questo muscolo che si può urinare. Questo muscolo è l'imputato di questa situazione, perché quando si contrae in maniera eccessiva, incoordinata, eccessivamente forte, allora si verificano questi problemi. Non è la vescica che si contrae, ope, proprio? No, no. È il muscolo che la stringe, come si fa a noi con una spugna? Esattamente così. È un muscolo che circonda la vescica, dalla contrazione di questo muscolo si verifica appunto l'atto della minzione. Mi suggeriscono di chiedere, forse sono interessati, se sia la caffeina ha anche una spinta, diciamo così, ad aiutare. La vedo a sentire. Certo, tutte queste sostanze, la caffeina, la teina, sappiamo che hanno un'azione irritante sulla vescica e su tutto. Sappiamo bene l'effetto che può fare una tazza di caffè presa magari prima di un esame all'università, di stimolare un attimino la famosa, quella minzione un po' urgente. Quindi sicuramente ci sono delle sostanze che favoriscono e che dovrebbero essere limitate. Compresa la nicotina? Compresa la nicotina. Compresa la nicotina sono tutte sostanze che dovrebbero essere evitate. Il fumo di sigaretta stiamo condannando. Il fumo di sigaretta fa male per tante cose, sappiamo bene. Ma tra le tante cose c'è anche la vescica. Professore, l'individuo, la persona che apprezza questo genere di sintomi a cui abbiamo fatto riferimento, che sono poi spettacolari, non sono nascosti, si rivolge prima al medico di medicina generale il quale gli dirà probabilmente, o le dirà probabilmente, di recarsi dall'urologo. Che succede a quel punto? Sì, l'urologo è la figura medica deputata deposta alla gestione e alla risoluzione di questo tipo di problemi. L'urologo innanzitutto deve parlare col paziente, deve guardare in faccia il paziente, deve capire che problema il paziente ha. Vede, questa sembra una cosa banale, ma molto spesso viene oggigiorno con i ritmi frenetici un po' sottovalutata, l'anamnesi, la richiesta di informazione. L'anamnesi lo spieghiamo ancora una volta grazie alla sua alleanza. L'anamnesi è la storia clinica dell'individuo, dalla nascita al momento in cui il medico la comincia a narrare. E chiedere quindi durante l'anamnesi al paziente ti svegli la notte, quante volte ti svegli la notte, durante il giorno ogni quanto tempo urini, hai la necessità di urinare con urgenza, perdi urine o riesci ad arrivare fino al bagno. Una serie di informazioni che già orientano l'urologo verso quel problema. Insisto, il medico specialista naturalmente va ad escludendum. Se è maschietto di una certa età o di un'età certa, probabilmente dovrà escludere un'iperprostatite. Una prostatite è dovuta a un'iperfunzione. Vediamo subito le cose più facili, più comuni. Con gli esami. Esatto. L'ipertrofia prostatica è una patologia frequentissima, sappiamo. Dopo i 50 anni praticamente un uomo su due ha la famosa prostata ingrossata. Già, ecco, accanto all'esame obiettivo, accanto all'anamnesi, consente all'urologo di vedere se il paziente ha una prostata ingrandita e quindi ricollegare quei disturbi a un'ipertrofia prostatica. Quindi, come sempre, il paziente è al centro della nostra valutazione. Ipotesi. Posto che siamo riusciti a guarirla, questa ipertrofia prostatica, finisce anche il disturbo? Questa è un'ottima domanda, perché in realtà i disturbi sono collegati alla presenza di una ostruzione che determina la prostata. La prostata ostruisce il passaggio dell'urina, quindi cosa fa la vescica? Che è un muscolo, un muscolo che è intelligente. Si ipertrofizza, comincia a, tra virgolette, a contrarsi più energicamente. Va da sé che se la ostruzione in qualche modo viene risolta, il detrusore, questo muscolo che circonda la vescica, non ha più bisogno di doversi contrarre in maniera così energica. Quindi la risposta è sì. Il problema nasce quando il medico inarca il sopracciglio e indica altri esami per approfondire. Sta sospettando qualche patologia più grave? Beh, inarcare il sopracciglio non è mai una buona pratica medica, a mio modo di vedere. Il paziente va innanzitutto tranquillizzato, magari con un bel sorriso e con una pacca sulla spalla, secondo me. Dopodiché dobbiamo ovviamente valutare la possibilità che accanto a una buona anamnesi, a un buon esame obiettivo, si facciano degli esami, molto spesso esami semplici, poco costosi, poco invasivi. Una buona ecografia, per esempio. Una buona ecografia ci consente già di vedere se una vescica si svuota completamente, se una vescica ha delle pareti spessite, se ci sono dei calcoli all'interno della vescica che possono in qualche modo giustificare una sindrome della vescica iperattiva o, in casi più rari e speriamo poco frequenti, ovviamente anche la presenza di dei tumori che in qualche modo possono avere una sintomatologia abbastanza simile.